Musica Camerota, 27 anni e muore in discoteca, cade un pezzo di roccia. Autoimpiego e Sud, dopo le vacanze con il Masterplan, intanto stop agli aiuti per le piccole imprese. Teggiano, ieri convegno e mostra sulle migrazioni in Argentina e Uruguay. Padula, dal 17 al 19 agosto, la festa della patata rossa. Sassano, questa mattina presentato il ritiro della Salernitana primavera. Buongiorno, bentrovati a questa edizione con l'informazione di Uno News. Apriamo con la cronaca. Un 27enne di Mugnano è morto la scorsa notte nella nota discoteca il ciclope di Marina di Camerota quando a causa di un violento temporale un pezzo di roccia si è staccato ed è caduto sulla testa del giovane locale. È stato posto sotto sequestro ed è aperta un'inchiesta. Vediamo. Doveva essere una serata di divertimento assoluto la notte di San Lorenzo in uno dei locali più rinomati del Cilento, il ciclope di Marina di Camerota che nella sua caratteristica location, ubicato all'interno di una grotta, ogni estate accoglie tantissimi giovani. Invece, ieri sera, la nota discoteca si è trasformata in un teatro di morte a farne le spese un 27enne di Mugnano in provincia di Napoli. Il giovane in vacanza sarebbe stato colpito, secondo una prima ricostruzione, da diversi pezzi di roccia che si sono staccati dal costone da un'altezza di 60 metri. Le pietre sono cadute sul giovane che sarebbe morto sul colpo. A causare la caduta delle rocce, il temporale che si è abbattuto sul Cilento la scorsa notte. La grotta del ciclope doveva essere il luogo di riparo per i tanti giovani che dalle 5 del pomeriggio avevano dato il via al lungo aperitivo che si sarebbe dovuto concludere la mattina seguente sotto le note del DJ Patterson. Tuttavia, d'improvviso, le urle di alcuni giovani hanno fatto calare il gelo nel locale. Tutto si è fermato, immediato sul posto l'intervento del 118 ed i carabinieri della compagnia di Sapri guidati dal capitano Emanuele Tamorri che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La discoteca è stata posta sotto sequestro dalla procura della Repubblica di Vallo della Lucania che ha aperto un'inchiesta, una roccia pericolosa. Infatti, già lo scorso anno, un grosso masso si staccò dal costone terminando la sua corsa sui bagni, per fortuna senza conseguenze. Ieri sera, invece, un 27enne in vacanza che voleva soltanto divertirsi ha perso la vita. E lasciamo la cronaca. Occupiamoci ora dello sviluppo, ma soprattutto dello sviluppo del mezzogiorno perché fa discutere non poco la stop ufficializzata dalla Gazzetta Ufficiale per i finanziamenti al Fondo per l'Autoimpiego che ha creato nel sud Italia centinaia di migliaia di posti di lavoro. Anche il quotidiano Il Giornale, infatti, questa mattina ha posto l'attenzione sulla decisione del governo che sembra essere ritenuta inopportuna da più parti dopo soprattutto la pubblicazione del rapporto Svimez. Intanto bisognerà attendere il termine delle vacanze estive per capire di cosa si tratta il masterplan annunciato dal Premier Renzi. Il piano per far ripartire il sud Italia questa mattina è argomento di apertura per Il Quotidiano e Il Giornale. Un titolo polemico, quello scelto per trattare l'argomento che pone in evidenza in particolare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stop ai finanziamenti per la piccola imprenditoria. Campeggia, infatti, sulla prima pagina il titolo Il piano di Renzi per il sud, eliminati gli aiuti alle imprese. L'annuncio del Premier Renzi di dare il via alla realizzazione di un piano di sostegno per il mezzogiorno alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva non basta infondere fiducia tra i piccoli imprenditori e i giovani che vorrebbero investire nelle loro terre. Soprattutto dopo che in Gazzetta Ufficiale arriva l'annuncio dello stop ai finanziamenti per l'autoimpiego visto l'esaurimento delle disponibilità economiche. L'articolo del Quotidiano e Il Giornale presenta i dati visibili anche sul sito internet di Invitalia. Attraverso i fondi di autoimpiego sono state oltre 111.000 le iniziative finanziate con un importo erogato di circa 5,3 miliardi di euro e la creazione di 195.000 posti di lavoro. Ora tutto si ferma. Una delle principali iniziative che ha raccolto anche il plauso dell'Unione Europea per l'efficacia dell'azione contro la disoccupazione giovanile vede lo stop dal governo per l'assenza di fondi da destinare alla misura. Oltre al danno, la beffa. Il Quotidiano e Il Giornale infatti evidenzia anche come chi ha presentato la domanda senza poter usufruire dei finanziamenti e volesse recuperare gli incartamenti sembra debba farlo a proprie spese. Insomma, una situazione paradossale se si ripensa al rapporto Svimez che vede il sud Italia in una posizione economica anche peggiore della Grecia con un gap esponenziale tra nord e sud Italia dal punto di vista dello sviluppo. Ormai la questione meridionale è diventata un proclama. Da anni si sente parlare di voler dar vita ad iniziative a sostegno dello sviluppo del mezzogiorno. Servirebbe una politica di sburocratizzazione per il mezzogiorno nel convinto in questo senso l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri che dalle pagine del Quotidiano e Il Mattino evidenzia come la società sia pronta a scommettere sul sud. Intanto resta alta l'attenzione sui fondi per l'autoimpiego da parte delle forze politiche. Sollecitazioni arrivano in particolare da professionisti del nostro territorio con il dottor Valentino Tarateta e l'ingegnere Raffaele Tarateta che spingono le forze politiche verso un'azione forte a tutela dell'autoimpiego. Sono in campo i deputati Tino Iannuzzi e Stefania Covello per il Partito Democratico, Mara Carfagna e Deborah Bergamini per Forza Italia con l'interesse a far riprendere al più presto i finanziamenti da parte del Governo all'autoimpiego in attesa che vengono anche avviate altre azioni favorevoli per lo sviluppo del mezzogiorno annunciate dal Premier Renzi con il suo Master Plan. I dati confermano il momento di difficoltà per il Sud Italia per quanto riguarda infatti il lavoro aumentano le assunzioni nel primo semestre del 2015 con una media del 36% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma al Sud i dati pur segnalando una crescita sono comunque al di sotto della media italiana. Vediamo. Cresce la quota di assunzioni con rapporti stabili sul totale dei rapporti di lavoro attivi variati si legge nell'osservatorio sul precariato dell'Inps che spiega come il dato sia passato dal 33,6% del primo semestre 2014 al 40,8% di quest'anno. Nel primo semestre spiega l'Inps confermando il numero di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato rimangono sostanzialmente stabili i contratti a termine mentre si riducono le assunzioni in apprendistato. Nel periodo la variazione netta tra i nuovi rapporti di lavoro e le cessazioni è di 638.240 unità. Nello stesso periodo dell'anno precedente invece era stata di 393.000 circa. Nel primo semestre le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel settore privato stipulate in Italia rilevate da Inps il 36% in più rispetto allo scorso anno mentre le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine sono state del 30,6% in più. In aumento anche il lavoro full time rispetto al part time i nuovi rapporti di lavoro a tempo pieno rappresentano il 63,4% del totale delle nuove assunzioni nei primi sei mesi del 2015 in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dati positivi a livello generale ma analizzando area per area il gap nord-sud è presente. La media italiana è del 36% le regioni del nord-est segnano un più 52% di assunzioni con il Friuli che evidenzia la crescita di assunzioni addirittura dell'83% al di sopra del 50% anche l'Umbria, Marche, Trentino Alto Adice ed Emilia Romagna. Il sud invece è molto al di sotto della media nazionale con la media del 22,4% con la Campania, la migliore che segna un più 25,7% prima di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia. Il governo, con in testa il premier Matteo Renzi esultano per questi dati che se è vero che assegnano una crescita da un lato dall'altro lato mettono in risalto che per il mezzogiorno necessitano altre riforme per cercare di recuperare un gap che rischia di diventare un divario incolmabile e insuperabile. Cambiamo argomento. Ieri presso il complesso della Santissima Pietà di Teggiano un incontro per parlare del progetto Thanos realizzato da Fabio Ragone che punta a creare un legame forte e duraturo con le terre del Sud America luogo di destinazione dei nostri migranti sin dal periodo post-unitario. In questi giorni a Teggiano è giunta una delegazione dell'Uruguay dove è forte il curto verso il San Cono ma oltre al gemellaggio tra Florida e Teggiano nel nome di San Cono si sta già pensando anche ad altri progetti per rafforzare le due comunità nell'Unione. Una delegazione proveniente da Florida e in Uruguay è giunta nel Vallo di Diano e precisamente a Teggiano, città d'origine di San Cono santo a cui la comunità uruguagia è particolarmente devota. La delegazione ha anche partecipato domenica scorsa alla consueta visita all'antico monastero di Cadossa luogo in cui la santità del giovane Cono si è manifestata. Ieri sera, presso il complesso della Santissima Pietà si è tenuto un convegno alla presenza anche del sindaco di Florida Carlos Enciso città gemellata dal 2011 conteggiano proprio in virtù della forte devozione verso San Cono. Nel corso del convegno organizzato dall'associazione Thanos presieduta da Fabio Ragone è stato nuovamente presentato il progetto su cui Ragone sta lavorando da diversi anni per riportare alla memoria il cammino dei nostri migranti partiti già dalla fine del 1800 nel periodo post-unitario alla ricerca di fortuna e lavoro ad accogliergli le terre del Sud America in particolare Argentina ed Uruguay ed è proprio il legame con quelle terre lontane dove i nostri migranti sono stati accolti e a cui è stato offerto un lavoro contribuendo così alla crescita di quei territori che ha portato Ragone ad intraprendere un cammino verso quei luoghi dove anche le tradizioni e le culture delle nostre terre si intersecano con le tradizioni e le culture del Sud America di questo e di altro si è parlato ieri sera ma anche di un ampliamento dei rapporti in particolare con Florida e in Uruguay sia da parte dell'amministrazione comunale di Teggiano che da parte delle istituzioni di Florida in primis del sindaco vi è la volontà di ampliare ulteriormente le attività di gemellaggio anche dal punto di vista degli scambi economici oltre che turistici e questo è il principale obiettivo che ha portato la delegazione di Florida a Teggiano in questi giorni la propria volontà di questa amministrazione è quella di voler rafforzare i gemellaggi che sono già venuti nel 2011 rafforzarli non solo da un punto di vista turistico per riempire l'estate di turisti perché fa piacere però anche durante tutto l'anno magari pensare anche a una sorta di gemellaggio a livello anche commerciale di portare alcuni prodotti tipici del vallo o proprio di Teggiano nei paesi dove i nostri nonni sono stati immigrati e altrettanto far conoscere quelle tipicità in queste zone ci sono diversi progetti in cantiere sia gemellaggi culturali come gemellaggi anche più materiali di prodotti di varie attività che possono essere esportate e importate o anche la stessa conoscenza magari di facilitare sempre più il turismo verso quelle zone da quelle zone verso le nostre ieri sera il convegno moderato dal vice sindaco di Teggiano Mariana Morello a cui hanno preso parte anche il parroco della cattedrale di Teggiano Don Giuseppe Puppo oltre naturalmente al sindaco di Florida Carlos Enciso e Fabio Ragone presidente dell'associazione Thanos al convegno erano anche presenti il presidente del consiglio comunale Emma Gallo l'assessore Sonia Marino e il consigliere Vita Antonio Cobucci che ha organizzato l'evento in collaborazione con Fabio Ragone a seguire è stata inaugurata una mostra fotografica dedicata ai nostri migranti in Uruguay e in Argentina e al culto di San Cono sul tema Thanos l'emigrazione medidionale in Argentina e Uruguay in cui in pochi scatti vengono raffigurati alcuni dei momenti significativi che testimoniano il legame tra l'Argentina, Uruguay e Vallo di Diano per la delegazione dell'Uruguay poi è stata prevista anche una visita speciale alle grotte di Pertosauletta grazie alla disponibilità della fondazione Mida e del presidente Francesco Antonio Dorilia in questo servizio abbiamo ascoltato le parole del vice sindaco di Teggiano Marianna Morello che annuncia all'inizio di progetti di interscambio sia economici che culturali questi progetti vengono confermati anche dal sindaco di Florida che parla ai nostri microfoni ascoltiamolo è un grande esempio quello che viene dato dal comune di Teggiano perché ha dato continuità a un doppio gemellaggio firmato nel 2011 in Argentina e Uruguay e oggi siamo qui per una vera fase progettuale in cui i nostri amministratori locali e soprattutto il sindaco Rocco Cimino che ha voluto fortemente questo evento uno scambio appunto con il massimo rappresentante di Florida che ricordiamo è il luogo nel mondo dove il culto di San Cono richiama più fedeli si parla di circa 15.000 20.000 e quando capita di domenica si può arrivare a 40.000 presenze nella progettazione di San Cono prima il saluto a tutti i amici e a tutti i amici qui in Teggiano e in tutta la zona è un gusto poter generare questa devoluzione a la visita in su momento che hicieron le autorità e il obispo di qui a Florida e in questo caso nel hermanamento tra le città di Florida e Teggiano che hai che profundizzare e seguir lavorando ovviamente per noi ha sido e è ancora perché stiamo vivendo tutti i giorni esperienze molto lindate molto profondate di lo che fu il santo con una tradizione histórica di città e città di anni cosa che in Uruguai è più recente su participazione con i migrati del siglo XIX hai evidentemente una storia però non è lo stesso la vivenza qui ir a Cadoza ir a los lugares dove stanno le reliqui e tenere la possibilità di vedere direttamente la zona dove il proprio santo estuvo allì hace setecentos e pico di anni ovviamente è rimovedor e anche il santo il santo nos une come un simbolo per fare altre cose per intercambiare cultura informazioni perché no prodotti beccas beccas empresariado e da ida y vuelta questo questo è un'opportunità per generare entre ambas localidades e ambas regioni attività del futuro per abrire puertas ok innanzitutto lui inizia salutando tutti gli amici tegianesi non solo perché in questi giorni ha avuto modo di visitare anche altri posti del Vallo di Diano naturalmente per lui è qualcosa di emozionante stare nei luoghi che hanno caratterizzato la storia precedente alla San Cono che arriva in Uruguay perché l'arrivo di San Cono in Uruguay è un'esperienza storica recente stiamo parlando di fine ottocento quindi la possibilità di poter recuperare 700 anni di storia e poter toccare con mano questi luoghi emblematici della vita del Santo sicuramente per lui è qualcosa davvero di emozionante e poi lui dice naturalmente che questo incontro che è naturalmente la risposta a quell'incontro che c'è stato nel 2011 a Florida lui dice la restituzione in qualche modo della cortesia lui dice che può essere la scusa per fare altro quindi il legame tra Florida e Tegiano non deve essere solo di tipo religioso non solo legato all'emigrazione ma può essere lo spunto per nuovi progetti che guardino al futuro ieri lui ha proposto addirittura l'istituzione di alcune borse di studio che hanno trovato l'entusiasmo anche del sindaco Rocco Cimino e anche di una serie di rapporti commerciali con imprenditori locali e imprenditori uruguaiani Lasciamo Tegiano per spostarci a Padula specialità gastronomiche musica e divertimento saranno i protagonisti dell'ottava edizione della festa della patata rossa di montagna che si terrà nel borgo di Sant'Eligio a Padula dal 17 al 19 agosto prossimi la patata rossa come elemento cardine delle specialità in menù un prodotto che ha qualità particolari della ottava edizione di questa manifestazione ne abbiamo parlato con Alfeo Davide Cancellaro uno degli organizzatori della manifestazione ascoltiamolo siamo all'ottava edizione della festa della patata rossa di montagna questo prodotto questo tubero recuperato viene coltivato a 1100 metri di altezza sul monte Romito un prodotto eccezionale come vi dicevo prima che ogni volta riproponiamo con degli ottimi piatti quest'anno la manifestazione verrà fatta nel borgo Sant'Eligio quindi la riportiamo di nuovo là dove è nata perché ci sono stati due anni che è stata fatta in piazza 5 anni a Sant'Eligio ottava edizione ritorna a Sant'Eligio nel borgo insieme ai residenti quindi questa festa della patata viene fatta in collaborazione con la macelleria Petrizzo e con parte dei residenti del borgo Sant'Eligio Villa Cosilinum e ristorante Porticum Herculis la manifestazione inizierà il 17 e continuerà per il 18 e 19 quindi 17 18 e 19 tutti a Sant'Eligio a gustare questi ottimi piatti della patata rossa di montagna il principale è questo c'è una patata che non assorbe olio quindi fritta così come noi la serviremo in questo piatto la patata fritta verrà diciamo degustata ed è una particolarità perché voi sapete benissimo che tutte un po' le patate assorbono olio questa lo respinge e poi ci sono anche tanti altri piatti come ad esempio faremo lo spezzatino di cinghiale con le patate faremo il gnocchetto di patata rossa faremo un raviolo ripieno di patata con salciccia e funghi porcini faremo il panino con salciccia e patate e tanti altri piatti che non li voglio dire tutti in modo che si incuriosisce la gente e viene a provarli di persona quest'anno c'è una novità la novità è che proprio per evitare che ognuno potesse arrivare con difficoltà nel centro storico e non trovare parcheggio abbiamo istituito il servizio navetta quindi invito tutti coloro che vengono da fuori quindi esclusi i padulesi a sostare nel parcheggio della certosa di San Lorenzo e con la navetta verranno accompagnati a 50 metri dalla manifestazione bentornati a questa seconda parte del nostro Tg 129 anni e non sentirli da domani mercoledì 12 agosto al via i festeggiamenti per il 129 anniversario del circolo sociale Carlo Alberto 1862 un circolo che ha attraversato diverse fasi della storia e che oggi costituisce davvero un'istituzione degna di rappresentare un modello dinamico in grado di sollecitare le energie culturali non soltanto nel nostro territorio vediamo domani mercoledì 12 agosto alle 20 e 30 presso la sede sociale avranno inizio i festeggiamenti per il 129 anniversario della fondazione del circolo sociale Carlo Alberto 1886 un appuntamento fisso e consueto che vedrà in prima linea i soci e le istituzioni locali a celebrare questa ricorrenza fondato nel 1886 il circolo inoltre un secolo di attività è stato in alcuni momenti un punto di riferimento per la cultura e la civiltà e in altri momenti invece si è mostrato un sodalizio incapace di comprendere un mondo cambiato a partire dal settembre del 2002 è stata avviata una nuova fase della storia del circolo una fase di rilancio e ripensamento delle sue funzioni oggi il circolo sociale Carlo Alberto 1886 svolge alcune attività come la vita sociale la socializzazione e un continuo confronto di idee che hanno ispirato iniziative di incontri vissuti nelle sale del circolo o in altri luoghi iniziative benefiche con l'apertura verso problematiche di forte impatto social iniziative culturali spazio privilegiato nel quale il circolo ha offerto il contributo più importante nel suo più generale impegno per la crescita culturale e morale del nostro territorio la presentazione di libri incontri con poeti e scrittori che hanno visto protagonisti non solo studiosi e scrittori operanti nel nostro territorio ma anche soprattutto intellettuali di grande spessore nazionale che hanno poi stabilito con il circolo stesso un intenso rapporto di collaborazione e di amicizia oggi si legge nella nota firma del presidente Felice Tierno il Carlo Alberto costituisce davvero una istituzione degna di rappresentare un modello dinamico in grado di sollecitare le energie culturali non soltanto nel nostro territorio ci spostiamo ora a Sassano dove si è rivelata particolarmente apprezzata l'iniziativa dell'associazione i ragazzi di San Michele Sassano sotto le stelle si ipotizza anche un prolungamento per questa serata vediamo si è conclusa ieri sera ufficialmente la sesta edizione di Sassano sotto le stelle organizzata dall'associazione ragazzi di San Michele nella splendida location di località San Michele a Sassano è stato possibile ieri sera ammirare le stelle cadenti anche se la serata è stata particolarmente incentrata sulla degustazione di specialità tipiche locali accompagnata da musica e divertimento l'evento punta innanzitutto a valorizzare un luogo particolarmente suggestivo e caratteristico di Sassano che oltre ad essere in sé molto affascinante consente anche di ammirare il paese da un'angolatura spettacolare l'iniziativa del gruppo associativo continua negli anni a raccogliere consensi e partecipazione vista anche la concomitanza con la notte di San Lorenzo notte da sempre dedicata ad ammirare il cielo e le stelle cadenti a partecipare all'iniziativa anche l'osservatorio degli astrofoli di Petina località San Michele tra le più adatte per la lontananza dalle luci del paese che interferiscono con la visibilità del cielo e perché ubicate in un'area facilmente raggiungibile i tre giorni dedicati a Sassano sotto le stelle sono stati inoltre caratterizzati da tanta musica e degustazione di specialità che fanno parte dell'antica tradizione culinaria di Sassano fusilli a ragù di maiale salsiccia caciocavallo filante alla brace e naturalmente vino locale e bibite l'associazione ragazzi di San Michele continua nell'organizzazione dell'evento anche al fine di raccogliere i fondi da destinare per la ristrutturazione della chiesa di San Michele a Sassano e ora lo sport questa mattina conferenza stampa presso l'hotel Montpellier di presentazione del programma del ritiro della Salernitana primavera che si concluderà il 20 agosto con il primo trofeo per la partecipazione delle squadre del campionato primavera della Salernitana del Bari e dell'Avellino intanto la squadra di mister Marco Savini il prossimo 14 agosto terrà il primo test amicrevole contro la Juniors del Sassano e il sindaco Tommaso Pellegrino il sindaco di Sassano questa mattina presente alla conferenza stampa ha annunciato che a settembre la prima squadra della Salernitana che milita nel campionato di Serie B sarà a Sassano per un amichevole siamo molto contenti molto orgogliosi e ringraziamo la Salernitana tutto lo staff e la società della Salernitana che ha scelto Sassano perché noi nel calcio crediamo molto e abbiamo investito molto e continueremo ad investire perché abbiamo in progetto anche di realizzare la prima città del calcio in regione Campania d'altra parte sappiamo bene abbiamo una tradizione particolare Beppe Bruscolotti è una delle massime espressioni del calcio d'Astanese ma ci sono state tanti altri interpreti bravi calcisticamente ad un certo livello quindi c'è una tradizione importante il fatto che la Salernitana in questi dieci giorni dal 10 agosto al 20 agosto e qui a Sassano i giovani della Salernitana cioè i talenti del futuro cioè coloro i quali guidati tra l'altro da un mister Savini molto molto bravo da un team manager del territorio Antonio La Rocca anche lui di grandi qualità beh questo questo fa ben sperare anche per il Vallo di Diano a mio avviso è una bella sfida perché noi è il modo per mettere in vetrina anche un territorio da un punto di vista sportivo noi abbiamo avuto la partenza del Giro d'Italia qui da Sassano adesso con la Salernitana iniziamo una nuova tradizione quella dei ritiri estivi perché io penso che Sassano si presta per tante caratteristiche anche sia per quanto riguarda il soggiorno ma per quanto riguarda anche il clima le altitudini e le strutture sportive si presta benissimo ad ambire ad essere un centro di ritiri per squadre importanti e questo può essere molto importante per i nostri giovani perché i giovani devono crescere ci sono tanti giovani che fanno calcio lo sport è importante noi invitiamo sempre i giovani a fare sport a fare calcio perché il calcio abitua alle vittorie e abitua anche alle sconfitte quindi è una grande una straordinaria palestra si fa squadra si fa gruppo si socializza quindi noi invitiamo sempre i giovani a partecipare il fatto è che ci siano tra l'altro proprio oggi annuncieremo anche che ci sarà un ragazzo di Sassano Giovanni Prusciantelli che da settembre sarà nelle giovanile della Salernitana è un altro bel risultato che il territorio del Vallo di Diano raggiunge e noi siamo anche ottimisti per il futuro ci auguriamo che anche in futuro ci possono essere dei campioni del nostro Vallo e di Sassano e poi ci sarà anche un bellissimo triangolare il primo trofeo del Cardinale Gruppo è un trofeo prestigioso importante perché parteciperanno quest'anno oltre alla Salernitana chiaramente il campionato primavera il Bari devo dire una grande disponibilità del Presidente del Bari Paparesta che è andato subito la sua adesione anche perché lui è molto legato al nostro territorio a Sassano in modo particolare e la presenza dell'Avellicio e poi annunciamolo è giusto annunciarlo alle nostre televisioni che a settembre o la prima o la seconda settimana di settembre c'era a Sassano l'amichevole della Salernitana della prima squadra quindi anche questo è un altro bel risultato un altro grande segnale di attenzione da parte della Salernitana colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco per l'accoglienza e per la disponibilità che ha avuto nei nostri riguardi direi di sì io ho trovato un gruppo già importante ci sono ragazzi che si stanno integrando pian piano e questo credo che si stia creando delle basi importanti per poter poi fare un lavoro adeguato ci tengo prima di tutto a ringraziare il sindaco l'associazione che gestisce gli impianti sportivi e tutta l'amministrazione poi comunale di Sassano che ci ha accolto benissimo una location ideale per un ritiro precampionato naturalmente a me fa enormemente piacere di tornare qui che è la mia terra nel Vallo di Diano e quindi è un modo ottimale per preparare una stagione difficile e stimolante con lo sport termina il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti Autore dei sovrapposti